Avevano allestito un maxilaboratorio per la lavorazione della marijuana all'interno di un'azienda agricola situata vicino al campo sportivo di Sedilo, dove sono stati sequestrati 57 kg di droga. Due uomini di 48 e 36 anni, originari di Orotelli e Orani, sono stati arrestati in flagranza di reato dalla Guardia di Finanza di Cagliari e Oristano dopo aver tentato di sfuggire alla cattura. Un terzo uomo di 43 anni, proprietario dell'edificio utilizzato per la lavorazione della cannabis, è stato denunciato all'autorità giudiziaria. Il blitz, coordinato dal procuratore della Repubblica di Oristano, Paolo De Falco, ha portato al sequestro di una notevole quantità di materiale impiegato nella lavorazione dei boccioli di cannabis per ottenere un prodotto con alte concentrazioni del principio attivo, come confermato dalle analisi successive. Durante l'operazione, i militari hanno trovato in funzione un trimmer automatico al rullo utilizzato per la pulizia dei boccioli insieme a quattro ventole di grandi dimensioni per l'essicazione, numerosi sacchi di carta per il confezionamento, una bilancia elettronica, un gruppo elettrogeno e quattro telefoni cellulari, tutti posti sotto sequestro.